Ancora senza pausa per il cancro. Per il cancro, giornata positiva, bella questa luna, nel punto più alto del vostro cielo, del vostro oroscopo, insomma una giornata che vi carica positivamente e quando voi siete sorridenti, ebbè siete delle persone amabili, veramente amabili, che possono stare in compagnia di chiunque e in effetti questa è una luna che porta anche delle novità da un punto di vista sentimentale. Volevo ricordare ai cancri, quelli più giovani, che magari potrebbe arrivare anche una risposta negativa ad un invito oppure potreste rendervi conto che forse con quella persona non è il caso di insistere, ma sappiate che prendere coscienza di queste cose è il primo passo per poter ricominciare, per rivolgere la propria attenzione altrove e magari ottenere maggiori gratificazioni. Sai che anche il mio onomastico cade di 17 anni.